Siamo in cinque su una camera, fra poco mi arriva il terzo figlio e siamo su questa camera qui. E la sua risposta è stata metterli in salotto i bambini. Due anni che ho visto il cambio, non si sa niente. Il comune di Venezia risponde all'atteranza più gentile del comune. Niente, risponde che ci sono persone, presepeggi di me. Ma ci servono appartamenti vuoti qui? Qui sì. Sono persone che vanno alla casa del comune e non aiuta mia mamma che è invalida. Fanno domande, o prendiamo una multa, noi paghiamo e loro no, non è giusto. Ci sono parecchi appartamenti qua, ma parecchi, vuote e non li danno queste persone che hanno bisogno. Qui è vuoto a piano terra, qua pure, di là pure, nel lavoro qui a primo piano è vuoto. Di qua pure, di là pure, anche se ci sono alcuni che ho sentito. Ci sono gli appartamenti. Vivo con mia mamma, ho tre bambini, ho sei anni che chiedo la casa con il sopraffollamento e non me la danno perché mi hanno detto che non ho reddito. Io mi chiedo poi, sì, stranieri, vabbè, non importa. Viviamo praticamente i bambini fino all'anno scorso, fino a luglio, che era viva mia nonna, dormivano nel soggiorno, adesso è morta mia nonna, li ho messi in camera, ma con mia mamma. Abbiamo addirittura provato a chiedere un ampliamento familiare per farsi risparmiare in una casa e anche quello ce l'hanno rifiutato.